Quando ero piccolo, vinsi alla lotteria della giostra due pesciolini rossi, che a me sembravano identici, tanto che li chiamai tutti e due Fred. Quando divenni grande e mi scoprì strumento, davanti ad una signora che mi chiedeva notizie dei suoi trapassati, rividi accanto a lei tenacemente i due pesciolini rossi che avevo vinto da piccolo. Poi la signora mi disse che il marito e suo padre, entrambi trapassati, si chiamavano tutte e due Fred. Commento Nel paranormale l'inconscio ha una grande importanza. Tanto che spesso fa da filtro ai messaggi che provengono dai piani superiori di esistenza. È un filtro che si impregna di quei messaggi e li riporta in simbolo allo strumento e molto più spesso al sognatore.